buongiorno gemmine primo giorno intero a seul e viva oggi è domenica si i soldini sarebbe il guadagnato di poi 3 4 euro si questi faranno parte della mia collezione di soldi io ci ho sbanconato di tutti i posti che ho visitato quindi questi diritti nella mia collezione ok allora che facciamo oggi dovremmo andare a vedere tutti i tempi vero la cartina di seul che abbiamo preso ieri in aeroporto comunque troppo carina e nel frattempo visto che ancora non abbiamo fatto colazione ci stiamo mangiando questi cioccolatini al tè verde e biscottino a cioccolato eccoli qua io me ne mangio uno sono troppo buoni l'abbinamento tè verde e cioccolato è una delle cose più buone del mondo vero amore guarda guarda che carini questi disegnini noi siamo più o meno qui da qualche parte qui ecco giungo giungo 3 eccolo qui comunque un piccolo aggiornamento riguardo all'albergo ieri eravamo molto contenti si oggi no oggi no abbiamo dormito abbastanza male l'albergo è molto sporco guardate non so se si vede si vede cioè è completamente pieno di polvere no ma qui guardate qui si vede non è polvere di adesso no è polvere di giorni e poi guardate qua è rotto hanno lasciato sto coso qua è rotto ieri sera io ho guardato in giro no e ho detto manzo c'è un coso per le zanzare ma che ci saranno le zanzare e noi abbiamo detto no ma tanto costo caldo non ci saranno sì questo coso tutto rotto le porte dei bagni anche anche la lampada sembra che stiamo facendo quella quel programma lì di real time guardate questa lampada ma che cavolo è è tutta rotta e poi non potete capire la polvere che c'è lì dietro il letto è abbastanza comodo e però c'è guardate qui la polvere qui dentro nel modem qua abbastanza sporco si più che altro si vede che si che era all'idea era bella l'avevano fatto bello però poi dopo l'anno un po lasciato così le porte del bagno e della doccia non si chiudono e poi si sono dimenticati di darci l'asciugamani grandi quindi ci siamo fatti la doccia ci sono asciugati con l'asciugamano piccolino non c'è il tappeto per terra dettagli però insomma la cosa principale è lo sforzo si vabbè in realtà oggi un po meno vabbè però vabbè può andare comunque dai ci siamo fatti il bagno lì della vasca è bellissima sì la vasca era molto carina molto comoda e bella grande con l'idromassaggio ok andiamo ok con questa cosa loro fanno colazione siamo appena usciti dall'albergo lì si stanno mettendo le bancarelle quelle cose della colazione con i ravioli le uova anche qui zuppe con polli interi per colazione noi andiamo verso starbucks dai che non ci siamo quasi mai andati in questi giorni a tokyo quindi ci siamo andati solo una volta siccome siamo stati sempre a casa loro guardate qui le uova si ricordate che qua in asia starbucks fa così diverse si si infatti quindi ci siamo andati solo una volta in giappone per prendere un cappuccino che c'era solo a tokyo alle si chiama snow pecan nut con le noccioline e quindi vogliamo vedere qui a seul che cosa c'è ciao 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 Che ti 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 AHHHHHHHHHHHHHHHHH Grazie a tutti 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 E qui Grazie a tutti 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 Sono tutte Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Non lo so Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti